Tutti a rete, stacco, parte con prudenza, subito Spritzgriff, mentre a largo di tutti c'è lo scatto di Ribes-Ducras che va a provarci. Remember che rientra nell'elivo di Pisacane, gli rientra per mezzo cavallo, lotta sulla prima curva, non può scendere Ribes, rientra Remember con estremo coraggio, parziale volante e purtroppo si getta di galoppo, alla massima velocità imboccando la curva. Rimane così il leader, ovvio e scontato, Ribes-Ducras davanti a Robinal, mentre rimane terzo Spritzgriff, Remember si è rimesso in quarta posizione, 15 secco il parziale del leader per i primi 200 metri volati, seconda frazione che se ne va, paletto di 400, 16 e 2, 31 e 2, quartetto che si riaccosta al leader che sta rallentando sulla seconda curva, Ribes-Ducras e Ferdinando Pisacane a guidare, Robinai che lo segue abbastanza vicino, poi ancora l'uno di Spritzgriff, Remember rimesso in coda il gruppetto, quartetto che sfila il passaggio con una frazione di 16 e 2 per arrivare ai 600, questo è il passaggio per arrivare alle 800, Ribes-Ducras in accelerazione, ne esce un 15 e 2, prova le member dalla coda a cercare l'avanzata esterna, Ribes che accelera sulla penultima curva, Robinai che sembra far fatica a mantenere il contatto, ne approfitta le member, richiesto che prova a saltare la femmina di Volpe, prima di elevare il chilometro, Robinai che rimane seconda, le member che in piena spinta prova a sistemarsi nella scena di Ribes-Ducras, Mossa che riesce con un parziale sollecito per l'allievo di montagna che accorcia le lunghezze dal leader, rimane a mezza lunghezza a metà della retta opposta quando Ribes prova a sparare un parziale in 15 e 4, Remember che lo segue, gli altri due fanno parte di un'altra corsa al momento, con Remember che fida ancora Ribes-Ducras a metà dell'ultima curva, mette anche il muso fuori l'allievo di montagna per provarci, nonostante l'errore al via, Ribes stappato richiesto, Remember che ci prova, ultima curva in 15 e 2, Ribes ha roccato lo steccato, poi allarga leggermente Remember che ci crede ancora, Enrico Montagna che domanda l'ultimo sforzo al suo allievo, Remember che se ne va ai 100 finali, e si isola, dopo rottura il via, una gran prestazione per questo allievo di Jonathan Benferrati del training, Enrico Montagna da catch che chiude in 1-17-1 che per lui vale molto meno, al secondo posto Ribes-Ducras, l'arrivo è ufficioso per i centrali, 5 Remember, 6 di Ribes-Ducras, Enrico Montagna, 1-17-1.